A seguito dell'interpellanza presentata nei giorni scorsi dai consiglieri comunali Luca Grazioli e Pier Giorgio Zambotti, che critica il rendiconto 2016 dell'attività del Museo Alto Garda, l'amministrazione comunale di Riva propone alcuni chiarimenti. Dal rendiconto 2016 emerge che le attività di ricerca e valorizzazione programmate sono state realizzate per un totale di spesa di 800.206 euro, importo che comprende anche le spese del personale e di gestione ordinaria. Per quanto riguarda i numeri delle presenze, rispetto al 2015 alcuni settori hanno segnato un incremento, mentre altri sono diminuiti. Sostanzialmente in linea il dato delle entrate a pagamento nella Rocca e nella Torre Apponale, che complessivamente nel 2016 hanno staccato 33.301 biglietti, in aumento anche le presenze nel settore della didattica. Nella Galleria Civica Segantini ad Arco il numero dei visitatori è invece sceso quasi della metà, passando da 11.759 a 6.118, evidentemente perché nel 2015 l'entrata era a titolo gratuito, mentre a partire dal 2016 è stata introdotta una tariffa d'ingresso al costo di 3 euro, che ha costituito un freno agli accessi. Per questo motivo è quindi allo studio una strategia complessiva per comunicare efficacemente l'attività dello spazio Segantini, anche alla luce della linea d'azione del Comune di Arco, che ha deciso di investire in questo luogo attraverso una serie di acquisizioni di opere di Giovanni Segantini, in modo da creare il nucleo di una collezione permanente, che costituirà un patrimonio prezioso e fondamentale della stessa città, e certamente un motivo di attrazione rilevante per il pubblico. Come ultimo dato, gli incassi del Museo, che nel 2016 tra vendita di biglietti, di cataloghi, visite guidate, didattica e iniziative varie, ha portato nelle casse 111.837,05 euro. Queste somme, aggiunte al contributo provinciale di 170.000 euro, vanno a coprire circa il 37% del totale della spesa, che per la restante parte è a carico dei bilanci dei Comuni di Riva del Garda e di Arco.